Oggi ho visto te, se non eri che in me, era come se lo fosse. Oggi ho visto te, mi rimane in mente, come l'angelo di pelle, prendi fuochi in me, prendi fuochi in me. Due rete parallele, non si incontra mai. La mia mente era più aperta, non sei più me. Ora io ti lascio, non è un cambio di passo, non sei più me. Prendi fuochi in me, prendi fuochi in me. Due rete parallele, non si incontra mai. Allora a questo punto, io mi sento il capo, ma voi non guardate affatto che noi abbiamo un controtempo, è una cosa normale. È studiato. È studiato, giusto. Quindi a questo punto, pubblico, potete in tranquillità, invece fare un dedicatissimo... Uno, due, tre... E' importante mantenere i toni impagati. Sono giorni tristi. Ok, ora si fa un pezzo nuovissimo, che si è scritto proprio l'altro giorno, proprio per questa occasione, speriamo che vi piaccia. Ok, ha capito, un applauso. Grazie. Grazie. La morte mi ferma a pensare a ciò che c'è dentro di me. Non è semplice rimanere sereno in un mondo che è storto, porta ad amare, porta ad odiare. Amo questa io, amo questa io, amo questa io, amo questa io. Ora mi fermo a pensare a ciò che c'è dentro di me. Ho capito che questo mondo cattivo prova a spostare tutto ciò che è dentro di me. E amo questa io, amo questa io, amo questa io, amo questa io. Io, amo questa io, amo questa io, amo questa io. Io, amo questa io, amo questa io, amo questa io. Io, amo questa io, amo questa io. Ciao. 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 Grazie!